la prima volta con film maker è stato nel 2004 con il mio primo film non avrei mai avuto il coraggio di farlo uscire giravo dei cortometraggi e non li montavo un pochino e poi non trovavo mai il coraggio di farli vedere al pubblico è stato forte per me perché è stato il primo momento in cui mi sono misurato davvero con gli spettatori anche perché poi un film lo fa perché per gli spettatori il film non esiste se gli spettatori non lo vedono ecco film maker ti dà modo di esistere da modo ai film di esistere alle storie di passare dalla carta alla carne a film maker si parte prima dalla qualità del prodotto e poi si si cerca di capire come reagirà il pubblico il filmmaker col coraggio mostra la complessità il film ma il cinema diverso e quindi è un po anormale mi piace la prima volta con filmmaker non si scorda mai